Ecco, la musica finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, amore mio no per te, che bella, è la musica finita, non mi ricordo le parole però, un momento è lungo, un momento è lungo da morire, se non hai vissuto, non gettiamo via, Puposchi sta praticamente cantando, dai non essere triste, stai cantando diciamo la canzone d'addio, si perché effettivamente con quello che sta succedendo potrebbe essere il mio addio, si, Puposchi sta rompendo, ricordati che l'erba cattiva non muore mai, con la rivoluzione sovietica, siamo qua e infatti stasera ha pagato lui perché io non c'ho più soldi, Lo pagavano i rubli, non c'ho più la mia, ha pagato i rubli, continua la parola canzone, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, è passato tanto tempo, ma te non hai vissuto insieme a te, non gettiamo via così, Poi come finora, la speranza di una vita d'amore, la speranza di una vita d'amore, Fulvio, regista straordinario, la musica di una vita d'amore, 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 guardate, mettiamo l'epitafio, fai un primo piano a Puposchi, cadde un centesimo a terra e morirono nella mischia, questa è praticamente la storia dei miei eredi, Voglio aggiungere qualcosa a Bobo? Teleturruti? Pupo e Bobo Craxi, chi c'è? E poi Bobo sembra... No, ma lui si chiama Vittorio in realtà. Vittorio Enzo, Vittorio Enzo, poi Bobo. Vittorio Enzo.